Quando si parla di libri e di editoria c'è sempre la parola distributore in giro. Ma che cos'è il distributore? Cosa fa? Praticamente il distributore è quello che fisicamente distribuisce i libri alle librerie. Volete vedere il magazzino del nostro distributore Biblos? Seguitemi! Ovviamente non è solo un magazzino, ma anche uffici, state per incontri e via dicendo. Biblos inoltre è anche un servizio di promozione con una propria rete promozionale e tra gli editori promossi ci siamo anche noi della Grafait Edizioni.